Trenolandia non è un parco giochi ma un giocattolo costoso. Il treno fantasma di Marsilio, Pescara-Roma-Tiburtina, annunciato in pompa magna dal presidente Marsilio, è un giocattolo che consuma milioni di euro a carico degli abruzzesi. A denunciarlo Italia Viva, che sul treno Pescara-Roma-Tiburtina ha condotto un'inchiesta con tanto di numeri su costi, ricavi e benefici, di cui parla il Tg8 Camillo D'Alessandro, presidente regionale di Italia Viva. Non è un parco giochi ma è un giocattolo in mano a Marsilio che costa agli abruzzesi 2 milioni e 284 mila euro. Stiamo parlando del treno che hanno inaugurato da Istituto Luce, tutto lo ricordano, l'attuale treno che da Pescara parte e va a Roma. Un treno che impiega oltre tre ore rispetto agli autobus che impiegano molto meno. Bene, questo treno costa 2 milioni e 284 mila euro, 480 euro a chilometro. Abbiamo fatto un'inchiesta, abbiamo mandato i nostri ragazzi sul treno, abbiamo scoperto che la media dei passeggeri andati al ritorno sono 15 andati e 15 al ritorno, la maggior parte tra l'altro sale da Avezzano. Il ricavo da questo treno giocattolo è di 105 mila euro, la perdita secca all'anno è di 2 milioni 179 mila euro. Quindi ho fatto un calcolo molto banale, la perdita diviso i passeggeri. Sapete quanto ci costa questo treno? Quanto costa un passeggero all'anno? 72 mila 633 euro. Se noi mandassimo qualcuno sulla Luna, forse costerebbe di meno, arriviamo appunto a pagare un passeggero che va a Roma per una cosa finta, fantasma, un treno che nessuno prende. Il tema è che nessuno lo prende perché impiega di più rispetto agli autobus, costano di meno gli autobus e arrivano prima a Roma. E perché nel momento in cui ci sono i tagli ovunque alla sanità hanno aumentato il costo dei trasporti, hanno tagliato le rotte dall'aeroporto di Pescara ovunque, tutto quello che sta accadendo, questi si permettono il lusso di perdere ogni anno oltre 2 milioni di euro e fare viaggiare gli abruzzesi a 76 mila euro l'uno. Questo treno va soppresso, non ha senso, cioè per 30 persone di cui la maggior parte parte da Avezzano, li andiamo a prendere col taxi e li portiamo a Roma, sono più contenti e facciamo prima e risparmiamo molto 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 di più. Non c'è utenza ma ci sono i soldi pubblici e questi soldi pubblici vengono sottratti al costo dei biglietti che sono aumentati a San Gritana che è una società pubblica di tua che vogliono svendere al privato perché non c'hanno i soldi. Dobbiamo arrivare a mettere un punto su questa situazione e dobbiamo fermarvi. Io spero che i cittadini indignati che vedono ogni giorno i sacrifici che devono fare in Abruzzo che non possano sopportare questa situazione ma soprattutto servono gli organi di controllo che vadano a verificare la nostra inchiesta e la nostra denuncia.